Buon pomeriggio, ci ritroviamo per la rubrica che abbiamo iniziato la scorsa settimana sulla storia, sulle origini del rinnovamento carismatico cattolico nel mondo e in Italia. La volta scorsa abbiamo sottolineato proprio la genesi, la scintilla che è scoccata in quel famoso weekend di Duquesne il 17-19 febbraio 1967, che aveva avuto un prologo in un incontro di preghiera a casa di una donna episcopaliana, di due professori dell'università che avevano ricevuto l'esperienza del battesimo nello spirito, si pensa intorno al 20 gennaio del 1967 e abbiamo visto come da quel momento in poi per contagio, come abbiamo specificato bene la scorsa settimana, cioè senza un disegno, una programmazione, senza voler fare proselitismo, questa esperienza carismatica assorta all'interno della Chiesa cattolica, tra cattolici, in qualche modo si è diffusa, si è diffusa dapprima in due università, con due iniziatori di prestigio, Steve Clark e il caro Ralph Martin a Narbor e da lì sono incominciati anche degli incontri, degli incontri periodici annuali, cioè degli incontri sia di preghiera settimanale, ma anche degli incontri annuali dove tutti coloro che in quel tempo facevano l'esperienza del battesimo nello spirito, di quella che in Italia poi abbiamo denominato preghiera per una rinnovata effusione dello spirito santo, diciamo così, condividevano l'esperienza, ma la condividevano sul piano fraterno senza pensare né di dar vita a un movimento, se vogliamo dire così, né dar vita a delle comunità, erano in qualche modo testimoni di una esperienza. Storicamente può darsi che l'esperienza del battesimo nello spirito i cattolici l'abbiano già effettuata in altre circostanze. Qual è la differenza questa volta che dà anche la grande impronta ecumenica, come dirà Papa Francesco a tutto il rinnovamento carismatico nel mondo? Il fatto che queste esperienze che ordinariamente i pentecostali davano, concedevano, facevano fare a coloro che si aggregavano alla loro esperienza pentecostale avviene fuori dalla chiesa pentecostale, in una chiesa carismatica, se possiamo dire, contagiata dal pentecostalismo, ma erano gli episcopaliani, e nello stesso tempo i pentecostali della nuova generazione che incominciarono in qualche modo a condividere quanto fatto con i carismatici cattolici, sottolineavano la necessità che l'esperienza non li portasse fuori dalla chiesa cattolica. Un nome per tutti, un pentecostale degli anni 60-70 molto importante e molto noto, che ha avuto poi anche una notevole influenza sulla vita del rinnovamento carismatico cattolico nel mondo, David Duplessis, il quale disse a tutti coloro che stanno facendo l'esperienza carismatica nella chiesa, restate nella chiesa, non c'è bisogno di andare all'altra parte e contagiate la chiesa cattolica. Il rinnovamento incomincia ad espandersi, sembra che la prima espansione, al di là dei confini degli Stati Uniti, sia avvenuta in Canada, dove fu introdotto nella comunità Madonna House in Comber, in Ontario, nell'agosto del 1968, e poi dagli Stati Uniti, grazie anche a molti missionari nordamericani che svolgevano attività nel Sud America, quindi sacerdoti che in qualche modo avevano incominciato a vivere questa esperienza. Il rinnovamento carismatico inizia a prendere prete prima in Bolivia, poi in Messico, poi a Peru, poi a Porto Rico. Incominciano ad aversi delle prime conferenze internazionali, con poche centinaia di persone, siamo all'inizio, la prima a Notre Dame, come abbiamo detto la volta scorsa, nel 1971, dove parteciparono addirittura fratelli e sorelle provenienti dalla Corea e dall'Australia. Nel 1971, attenzione, l'inizio del movimento cattolico avviene anche in alcune università europee, la prima in Belgio, nell'American College dell'Università di Lovagno e Udite Udite a Roma, dove alcuni americani e un canadese fornavano un primo gruppo di preghiera in lingua inglese, che poi ha grandemente influito sulla diffusione addirittura del rinnovamento nel mondo intero. Difatti, questo gruppo poi nel 1972 inizia a crescere sempre di più nella Pontificia Università Gregoriana, che ebbe un duplice effetto. Il primo effetto è che si incominciò a comprendere che il rinnovamento carismatico era una cosa molto seria, tant'è che addirittura veniva accolta nell'Università dei Gesuiti in una prestigiosissima università teologica e quindi in qualche modo si incominciò a studiare il fenomeno sul piano teologico ecclesiale, non soltanto sul piano della diffusione sperimentale. Nello stesso tempo questo rassicurava molto i cattolici, perché si conosceva bene la serietà di studio, di approfondimento, di analisi e di discernimento dei Gesuiti. Nello stesso tempo però questo gruppo universitario a Roma in una Pontificia Università Gregoriana favorisce la diffusione in tutto il mondo, perché vengono a studiare a Roma studenti, sacerdoti, religiosi in questa università da tutto il mondo. E quindi questo gruppo romano internazionale in questa prima fase, influisce grandemente per la diffusione del rinnovamento in tutto il mondo. Nel 1972 c'è l'espansione in Irlanda, in Francia, in Germania, in Giappone, in India, in Nuova Guinea. E ci fu una importante conferenza l'anno dopo a Notre Dame, negli Stati Uniti d'America, nell'Università, dove appunto c'era Ralph Martin, dove fu convocata una riunione speciale con 200 leaders da 25 paesi diversi e fu deciso di indire una conferenza internazionale dei leader nel dicembre del suo anno, nel 1973. Questo incontro dei leader avviene a Roma, a Grottaferrata, una cittadina vicino a Roma, con la partecipazione del cardinale Siunens e di 120 leader del rinnovamento promenente dai 34 paesi. Il 72-73 è l'anno nel quale c'è questo avvicinamento, questa conoscenza, questa relazione con il cardinale Siunens, che come vedremo anche nei prossimi incontri, diventa una pietra miliare, un fondamentale apporto di vita ecclesiale, di discernimento del magistrale della Chiesa nel rinnovamento carismatico cattolico. E in questo incontro nel 1973 fu favorita un'udienza appunto da parte del cardinale Siunens con alcuni leader di allora che erano a Roma, appunto accompagnati dal cardinale Siunens e Paolo VI, l'allora papa regnante, si dice nel gergo ecclesiale, accorse con molto favore questa esperienza e tutto questo fu propedeutico. Poi è un altro incontro che vedremo sempre la prossima settimana fondamentale l'incontro internazionale del 1975. Ma adesso vogliamo focalizzarci su quello che succede in Italia, perché come abbiamo visto nel 71 nell'Università Gregoriana c'è l'avvio di un gruppo internazionale, ma in realtà sempre alla fine del 1971 e inizio 1972 in Italia c'è il vero primo gruppo di rinnovamento italiano che si collega con quello di Roma in qualche modo e inizia la scintilla a scoccare in tutta Italia. Come abbiamo visto quindi inizia a diffondersi il rinnovamento in Italia. La scorsa settimana ho citato due testi a cui ho ottenuto le notizie, a cui si attingeva tutti i primi anni del rinnovamento, perché raccontare la storia di come è iniziato il rinnovamento carismatico nel mondo e in Italia non era un fatto accessorio nella vita dei nostri gruppi e comunità, ma era quel primo incontro, prima del seminario, per introdurre i fratelli e le sorelle nel seminario, ma facendogli comprendere che erano parte di una storia e di una storia sagra. ho attinto, ma non oggi da tempo, a dei testi molto importanti che purtroppo non sono più editati perché gli autori sono anche decetuti. Uno fondamentale, importantissimo, forse il primo testo dove si racconta in modo più organico la storia del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia, il rinnovamento nello Spirito Santo di padre Mario Pancera. Questa è un'edizione del 1992. Ho attinto anche chiaramente da un testo introvabile, perché non è un libro, è un quaderno di Alleluia, la nostra rivista, dove c'è un po' di storia internazionale, alcune considerazioni. Un testo sempre delle origini di autori vari, il rinnovamento nello Spirito Santo. Questi sono cimeli che nella mia biblioteca custodisco in modo molto geloso. Questo è molto più recente, è alla portata di tutti, un inossorribile prodigio di Dio, dove si narra un po' la storia del rinnovamento nello Spirito, ma è molto sommario. Cosa ci dice padre Mario Pancera, che poi qui e là editerà un altro libro con valori più contenutistici che storici, il rinnovamento frutto del concilio, questo ad opera della nostra casa editrice, edizioni rinnovamento nello Spirito Santo. Cosa ci dice padre Mario Pancera, che è stato uno dei primi membri del Comitato Nazionale in Italia e possiamo dire insieme a Dondino Foglio uno dei maggiori padri fondatori, iniziatori della nostra esperienza sanitaria. Narra di quello che avviene a San Mauro Pascoli, dove anche lì storicamente, insieme alla Pontificia Università Gregoriana, si costituisce la prima cellula vitale del rinnovamento nello Spirito Santo, che allora si chiamava rinnovamento carismatico cattolico. Poi i motivi per cui il nome in qualche modo è mutato in questa direzione lo scopriremo sempre nella storia ed è molto importante darne anche in modo chiaro le motivazioni che sono ecclesiali e teologiche. Un sacerdote, padre Valeriano Godet, canadese, abbiamo visto che in Canada fu una delle prime nazioni dove rinnovamento dagli Stati Uniti a Proda nel 1969, che aveva fatto l'esperienza del rinnovamento carismatico in Canada, si trova in Italia alla Casa Generalizia e per alcuni studi, per alcuni diciamo così, gli erano religioso e aveva ricevuto il battesimo nello Spirito e riceve la visita di due, diciamo così, sacerdoti, anzi di un sacerdote e di un laico. Questo sacerdote è Don Giancarlo Moretti Cappellano a San Mauro Pascoli e un laico, suo grande amico Alberto Trevisani. Andarono da lui perché avevano sentito dire, questi due sacerdoti, di questa esperienza. Incuriositi da questa esperienza, ne vogliono conoscere a fondo da una persona che l'ha vissuta direttamente e dalla quale ci si poteva fidare, di che cosa si trattava. E quindi padre Valeriano Godet in qualche modo inizia, attraverso l'esperienza del battesimo nello Spirito, questi due, questo sacerdote che è ancora vivente, Don Giancarlo Moretti e Alberto Trevisani, all'esperienza del battesimo nello Spirito, che portano a San Mauro Pascoli e nasce il primo gruppo di preghiera in Italia. Anche a Campobasso in realtà, per altre strade, nasce un'esperienza che poi dopo si ricollegherà al rinnovamento nello Spirito Santo in un secondo momento, con Don Giovanni Battista, ma molto già affine all'esperienza del rinnovamento carismatico cattolico in termini di preghiera e di desiderio di vita comunitaria. Ma in realtà non si può definire ancora, diciamo così, un vero gruppo di rinnovamento. Anche se dopo, appena a San Mauro Pascoli e alla Pontificia Università Gregoriana, se accende la scintilla, questa realtà si collega subito in qualche modo e incomincia ad essere una realtà molto, molto vitale. Invece nell'Università Pontificia, come abbiamo visto, in realtà l'esperienza è portata da sacerdoti e professori, anche teologi, che da gesuiti l'avevano vissuta in America e poi là, in qualche modo, la vogliono continuare a vivere in Italia. E inizia questo gruppo. Vi partecipavano per lo più studenti di teologia, qualche professore. E il numero cresce così velocemente che, praticamente, dal settembre del 71 si devono far dare l'aula magna dell'Università Pontificia perché non riescono più a contenere le persone. Però questo gruppo aveva la particolarità che era un gruppo multilingue. Il gruppo di lingua italiana in realtà però prende avvio nel febbraio nel 1972 assumendo il nome di Emanuele. Si radunava presso una casa privata, ma ben presto, per esigenze di spazio, si trasferì presso la parrocchia di San Sabba, sempre ai padri gesuiti e poi presso le sue radoratrici del preziosissimo sangue. È l'inizio, proprio è la scintilla che in qualche modo avvia il rinnovamento in Italia. Potremmo fare decine e decine di nomi di persone che in qualche modo hanno avviato, ma come abbiamo visto sia negli Stati Uniti che altrove il rinnovamento non ha dei veri e propri fondatori. Possiamo parlare di iniziatori, di persone che contagiano esperienza ad altre persone e molto spesso la contagiano nel contesto più vicino a loro, la famiglia, la parrocchia, gli amici e questa esperienza di una vita nuova nello Spirito, vissuta nel potere dello Spirito Santo, incuriosisce il vicino e incuriosisce per testimonianza, non per indottrinamento. Voler rammentare la storia delle origini ha ancora oggi un valore per noi pedagogico proprio nella linea dell'evangelizzazione. Ancora oggi il rinnovamento carismatico, il rinnovamento nello Spirito Santo avanza per testimonianza, avanza perché qualcuno lo annuncia, ma qualcuno te lo fa vivere, te lo fa vedere, ti testimonia con la propria vita, con le proprie opere, la presenza dello Spirito Santo. E così è successo anche in Italia. Da quel benedetto 1971-72 le esperienze carismatiche in Italia sono state ponteplici, il rinnovamento nello Spirito Santo, poi ne vedremo in qualche modo la storia in maniera più forte nelle prossime puntate, rappresenta sul piano numerico, ma anche sul piano nella vita ecclesiale, forse l'esperienza non più importante in termini di dignità, ma più importante in termini di responsabilità, cioè di testimonianza nella vita ecclesiale. Ed è per questo che ho la gioia di annunciare in coda a questo breve escursus storico la testimonianza di una delle sorelle delle origini, proprio dei primi anni del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia, la cara sorella Luisa, che con la sua testimonianza ci darà ancora un po' il sapore di queste origini. Grazie e ci rivedremo alla prossima puntata dove cercheremo di approfondire meglio la presenza del cardinale Suenens nel rinnovamento carismatico cattolico, i documenti di Malin, ma anche gli anni iniziali della vita del rinnovamento nello Spirito in Italia con la sua prima minima organizzazione e organi di collegamento che sarà un comitato che vedremo nella presenza di Dondino, di Patremario e di altre persone che dietro poi l'avvio anche, diciamo così, più organizzato alla nostra realtà. Grazie per l'ascolto, continuate a pregare per noi, Dio vi benedica. Alleluia! 1972, 48 anni, sono proprio una vegliarda. Ho vissuto tutti i tempi di rinnovamento, gioie e dolori. Poche settimane fa nella liturgia si leggeva in Matteo 21, 28, il padre chiama a lavorare nel campo i suoi figli. Il primo dice sì, ma non va. Il secondo dice no, non ho voglia, ma poi si pente e va. Io sono quella, dico sempre di no. Con fatica e gioie grandi ho vissuto questo cammino. Chi mi conosce lo sa. Cos'è stato il rinnovamento per me? Niente di straordinario, nello straordinario assoluto. Nell'82 all'Urde chiedemmo al Cardinal Sunes, nostro padre nella Chiesa, chi è uno del rinnovamento? Risposta, è un cristiano normale. Essere cristiani vuol dire appartenere a Cristo nella Chiesa per mezzo del suo Santo Spirito, pregare e servire sempre, là dove te lo chiedono, soprattutto quando non ne hai voglia. Non mi sento, si sente dire spesso. Gesù non è un sentimento, è una persona da amare e servire con costanza. Lui ci chiede le piccole cose perché le grandi cose le fa lui, servendosi di noi se ci lasciamo fare, perché non spesso, non tanto spesso ci lasciamo fare. Ho avuto l'opportunità di avvicinare e di vivere con i fratelli maggiori del rinnovamento, dei quali ho fatto tesoro di ogni respiro. Chi ha ricevuto molto deve dare molto, così recita la parola. Ti sei rivelato a me chiedendomi di tutto, dalle grandi responsabilità ai piccoli servizi, uguali agli occhi del Signore, dal coordinatore regionale al pulire i bagni, e con lo stesso slancio ed amore ho servito i fratelli. Fiorisci dove sei seminato, ci dice Sant'Agostino. Ti ringrazio padre perché hai rivelato ai piccoli la tua grandezza. Ignorante e incapace di parlare, mi hai chiamato a servire il rinnovamento di tutti i luoghi. Hai fatto parlare il mio cuore, la mia insaputa, affinché la tua gloria fosse d'altanto. Questi sono gli strumenti questi sono gli strumenti che ci fanno camminare. Paolo VI nel 75, nel giorno di Pentecoste, si definì la chance della Chiesa. Non deludiamolo. Vorrei chiudere con una frase di un futuro beato martire, l'osario Levattino. Quando arriverai lassù, non ti sarà chiesto se sei stato credente, ma se sei stato credibile. Amen. Alleluia. 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 Grazie a tutti.